Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Gianna Attasio. Sulla A11 in direzione Firenze, 4 km di coda tra Firenze Ovest e Firenze Peretola. In direzione Pisa ancora per traffico intenso, code tra Plato Ovest e Montecatini Terme. Sulla A1 rallentamenti per un veicolo in avaria tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla Fipili Code in uscita a Santa Croce sull'Arno in direzione Mare. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori ci sono rallentamenti in entrambe le direzioni, tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in Pruneta, tra Monte Rigioni e Badesse e tra Castelnuovo Berardenga e Colonna del Grillo. La viabilità cittadina a Firenze in Viale Gramsci per lavori di vieti di transito tra Via Mazzini e Via Segni. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Buon viaggio!